Oltre due mesi dal nostro primo appuntamento con Terrazza incontra la sanità, due mesi intensi in cui la fotografia della sanità Ligure è cambiata. Abbiamo vissuto i numeri più alti di influenza da quando i suoi dati sono monitorati, la più dura per la sua incidenza altissima sulla popolazione, caratterizzata da un picco arrivato già prima di Natale e da una discesa ormai conclamata. Il Covid è sempre meno preoccupante, almeno per i casi gravi. Si registrano meno di 100 positivi al giorno, ma emergono insieme alle notizie dalla Cina anche varianti come Kraken e Grifion, potenzialmente più contagiose e più resistenti ai vaccini. Spunta anche l'aviaria che passa dagli uccelli ai mammiferi e potrebbe diventare la prossima pandemia. La Liguria intanto continua a fare i conti con le liste d'attesa. Il piano regionale per riassorbire i ritardi accumulati per la situazione congiunturale dovuta al Covid è entrato nel vivo. Nel 2022 le prestazioni sono state 500 mila in più rispetto al 2021, escluse quelle degli esami di laboratorio, con un investimento maggiorato di 25 milioni di euro. Si concretizza in questo inizio 2023 il supporto della sanità privata. Dal bando all'ISA di 8,9 milioni di euro verranno effettuate nei prossimi mesi già prestazioni per oltre 6 milioni di euro. Prenoto Salute è pronta a scavallare le 100 mila prenotazioni a sei mesi dal suo esordio. Il sistema online di prenotazione di visite ed esami diagnostici, oggi anche di laboratorio, è nato a fine luglio e piace ai Liguri, preparandosi a diventare una piattaforma universale che connetterà CUP, farmacie, medici e cittadini. Cambio della guardia anche nelle posizioni chiave di alcune realtà sanitarie Liguri. A metà gennaio la terribile notizia della morte prematura di Salvatore Giuffrida, direttore generale del Policlinico San Martino. Nominato a succedergli è Marco da Monte Prioli, in arrivo da ASL 2. E proprio l'azienda Savonese attende a giorni la nomina del nuovo direttore. A Genova l'ospedale Galliera, il nuovo direttore generale, è Francesco Quaglia, in arrivo dalla Sanità di Regione Liguria. Qualcosa si muove anche sul fronte delle infrastrutture ospedaliere, mentre a fine mese verrà chiuso il piano sociosanitario regionale da parte dell'assessore alla Sanità Grattarola. Il piano entrerà in vigore a giugno. Tra gli ospedali, ultimo in ordine temporale, il passaggio del Saint-Charles di Bordighera al gruppo privato GVM Care & Research, mentre il nuovo ospedale genovese degli Erzelli, che sarà un centro nazionale di medicina computazionale e tecnologica, è arrivato all'approvazione del documento di progetto. Alla Spezia, l'ospedale Felettino inizierà a prendere forma da gennaio 2024, con la consegna entro l'estate del 2026. Sulla lista di attesa credo che va fatto un discorso di razionalizzazione. Bisogna identificare quali prestazioni necessitano i pazienti, bisogna coinvolgere i medici, bisogna far sì che il paziente abbia una presa in carico, che sia il medico curante oppure la struttura che ha in carico il paziente, a identificare chiaramente il percorso diagnostico terapeutico e quindi a scadenzare ciò che serve. Il personale, abbiamo sicuramente un problema sugli infermieri. Per quanto riguarda i medici c'è una carenza, ma più che un numero assoluto mancano i medici in alcune specialità. Dobbiamo rendere quelle specialità più attrattive e dobbiamo far sì che ci sia una gratificazione non solo economica, ma anche di prospettive e di ruolo e di organizzazione. Si interverà anche sulle cooperative? Abbiamo in mente di attuare qualche norma sulle cooperative. Assolutamente sì, perché non è possibile che magari nella stessa struttura lavora un medico del Servizio Sanitario Nazionale e ha un compenso, lavora un medico di una cooperativa, magari non ha neanche la specializzazione oppure ha anche più di 70 anni e guadagna tre volte di più. Abbiamo chiesto, accanto al problema chiaramente economico del contratto, l'orientamento che gli Atenei dovrebbero fare per alcune specialità rispetto ad altre, che oggi vivono momenti di crisi sicuramente meno eclatanti, meno gravi, come la medicina d'urgenza, l'anestesia e l'animazione, ma ve ne sono parecchie altre. Per ciò che attiene, per esempio, al mondo della medicina di famiglia, togliere molte incompatibilità che sono in qualche modo nate in periodi diversi, ma che oggi in un momento di emergenza, magari non più l'emergenza Covid, ma un'emergenza legata alla mancanza di personale, ecco, togliere queste incompatibilità, non dico per sempre, ma almeno per un certo periodo, in qualche modo per scavallare questo momento di difficoltà. E questo in qualche modo sembra essere stato accolto dal Ministro, il quale due volte, me l'ha detto anche nel momento di salutarci, di mandargli alla sua segreteria, al suo gabinetto, una serie di riflessioni che noi stiamo in questo momento diciamo così pensando e in qualche modo razionalizzando per fornire appunto la più chiara visione delle criticità che abbiamo in questa regione, in modo tale che lui possa raccogliere, credo in maniera più compiuta, tutto ciò che arriva dal Paese, che ha un filo rosso che poi unirà tutte queste cose, in modo tale da poi fornire una risposta la più, diciamo, congrua possibile. Le farmacie, a partire dal 16 febbraio, quindi adesso praticamente, entro il primo marzo, tutte le farmacie della regione Liguria avranno, in affiancamento per adesso al vecchio ISIS web, avranno anche la possibilità di usare prenoto salute. Fra l'altro, lo stanno già usando alcune decine di farmacie in prova, come dire, per testarlo. Mi dicono che fra l'altro il tempo di addestramento è passato a quello tipico di ISIS web, che per imparare questo sistema complesso, un po' antico come concezione, ci mettevano anche fino a sei mesi di corso e di apprendistato, mentre invece prenoto salute è praticamente immediato. I medici, medici e famiglia dal primo di marzo 2023 gli sarà permesso di usare anche prenoto salute e infine, a partire dal primo marzo 2023, lì sono tantissimi i call center, sono tanti gli sportelli, quindi ci metteremo qualche settimana, ma gradualmente anche i call center e gli sportelli avranno proprio salute. Quindi a questo punto tutti avremo fornito lo strumento più moderno, lo strumento più efficiente a tutti gli operatori, non solo ai cittadini. 50 farmacie stanno sperimentando, effettivamente abbiamo cominciato la sperimentazione, proprio per essere sicuri che poi il sistema possa funzionare e continueremo quindi a fornire ai nostri utenti un ulteriore servizio. Lo offriamo già col vecchio CUP web, però questo sistema ci permette di vedere molte più disponibilità, nel senso che appena una visita, faccio un esempio banalissimo, viene annullata da un cittadino, questa visita ritorna subito nel circuito. Dall'autunno 2023, GWM Care and Research gestirà l'ospedale San Charles di Bordighera. La firma congiunta tra il direttore generale Asluno, Luca Stucchi e il presidente del gruppo italiano della sanità privata, Ettore San Savini, è stata posta alla presenza dei vertici di Regione Liguria. Noi abbiamo un programma di investimento e in Liguria già abbiamo investito tanto in precedenza, un programma di investimento in Liguria ovviamente compreso l'ospedale di Bordighera è di circa una cinquantina di milioni nel giro di due anni, quindi abbiamo la struttura di Bordighera, la clinica Villa Serena di Genova e Rappallo dove c'è un'importante ristrutturazione e ampliamento di questo ospedale. Quasi una sfida. È una sfida, è una sfida, a me le sfide piacciono, nonostante alla mia età ancora mi sento operativo e voglia di pensare al futuro, è una sfida che accetto molto volentieri. Confermato il potenziamento dei servizi, tra cui il pronto soccorso. Di cui viene la necessità assoluta, visto il carico di lavoro che c'è sull'ospedale sia di Imperia da un lato sia di Sanremo dall'altro e quindi avere un terzo polo, diciamo così completo, diciamo porta a un potenziamento davvero straordinario per quest'area che è l'area più delicata, diciamo in questo momento, che sta vivendo momenti più difficili rispetto ad altre asle della Regione Liguria. Passato il Natale, forse il periodo più duro per i pronto soccorso Liguri, la loro situazione particolarmente delicata continua a preoccupare anche in questo mese di febbraio. Ma facciamo un passo indietro, durante il periodo delle feste natalizie ha retto la strategia regionale fatta di accessi differenziati, coi cosiddetti flu point, di ambulatori dedicati, di studi medici aperti eccezionalmente nei festivi. Questo mix ha arginato il problema strutturale della Liguria, il sovraffollamento dei pronto soccorso. Un tema noto che ritorna non solo nelle feste, ma ogni lunedì il sistema è sempre sotto monitoraggio e spesso si trova sotto scacco. Solo nel genovese possono capitare anche 80 persone insieme da gestire, come avviene di sovente al Villa Scassi, al Galliera, al San Martino e accade quasi sempre a inizio settimana. E se le singole aziende sanitarie riescono con buona volontà a gestire i flussi, le giornate con le lunghe code di ambulanze fuori dai dipartimenti di emergenza e urgenza non mancano. A mancare invece solo in Liguria sono mille lavoratori, di cui 500 a Genova, tra medici, infermieri, operatori sociosanitari e tecnici di laboratorio. E il pronto soccorso resta all'area maggiormente colpita. Sulla carenza di personale gravano i pensionamenti e l'impossibilità di un turnover immediato, ma anche il problema dell'abbandono della professione e lo scarso appeal che il lavoro di pronto soccorso ha sugli stessi medici. Temi che ritornano da tempo sollevati anche dal ministro Schillaci giunto in Liguria nei giorni scorsi. C'è soprattutto carenze in alcune specialità che dobbiamo rendere più attrattive, facendo sì che ci sia una gratificazione non solo economica, ma anche di prospettive di ruolo e organizzazione, dice il ministro ai sanitari Liguri. Resta poi il nodo dei medici a Gettone. La Liguria ha speso negli ultimi anni circa 4 milioni di euro per coprire il fabbisogno di personale mancante in tutte le strutture ospedaliere regionali e per evitare la chiusura di alcuni servizi sanitari. E per farlo ha usato le cooperative di medici. A Gettone, appunto, i pronto soccorso, anche in questo caso, risultano l'area dove si concentrano le maggiori criticità. Quelli che sono un po' chiamati il post-Covid, ovvero sia i danni che si verificano nell'immediato, che si manifestano subito dopo, nelle settimane, i primi mesi successivamente alla guarigione, e il cosiddetto long Covid, quell'insieme di sintomi che può persistere anche per oltre un anno. Queste manifestazioni sono dovute soprattutto, da una parte, ai danni diretti del virus. Cioè, il virus, soprattutto nelle ondate iniziali, creava danni a carico dell'olfatto, del gusto, ma dell'olfatto in particolare uno si può protrarre questi deficit dell'olfatto anche a distanza di oltre un anno. Ci sono danni polmonari per chi ha avuto la polmonite, soprattutto le forme gravi, con un peggioramento delle condizioni polmonari preesistenti o con la persistenza sia di sintomi che di danni in termini anche di fibrosi, cioè di cicatrici che si sostituiscono al tessuto polmonare sano. Con tutti i problemi che questi possono dare nel medio e lungo termine. E ci sono tanti progetti attivi da questo punto di vista. E poi ci sono quelle forme più suddole, in cui ci sono delle febbricole che vanno e vengono, dei disturbi di concentrazione, quella che viene chiamata la brain fog, la nebbia del cervello, in cui uno fa fatica a concentrarsi sulle cose a cui era abituato prima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.